Voglio dare un'informazione a un esponente politico milanese il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud non voglio fare nomi, diciamo, è un esponente che va in giro in questo periodo per l'Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato occhiali color pannolino di bimbo per intenderci Sì